Siamo per uscire dal terminal di Alessandria. Siamo per uscire dal terminal di Alessandria. Sono contenti, ho detto oggi. Ecco il nostro taxi, guardate che modello. Modello giudizia. Guardate qua che taxi. Si, è persino ordinato. Ci fanno compilare un modulo con il nome, il cognome e il numero di cabina della nave. Guardate subito fuori dal porto che cosa c'è. A parte le pozzanghere incredibili nelle strade, ma il traffico è congestionatissimo. Guardate dopo quella pioggia di stamattina come sono ridotte le strade. L'autista ci ha fatto scendere in questa location dove c'è l'obelisco. di Pompei. Eccoci in questo archeologico. La spiglia ha le colombine in testa. G quality, quindi gue הד volta e ci faccio davanti. Buon corpore riguardo è solo. Guardate qui l'abereing. Questa è la La missa. Questa è la massa planetica. È un po' di scena di lavoro per commissari. le nicchie che vedete sulle pareti erano per i libri per cui era anche una biblioteca oltre questo era il dormitorio della biblioteca ma sulle pareti comunque scaffali per i libri molto gentile questo ragazzo della security questi fori erano per le torce per illuminare e poter leggere tutto quello che vedete sulle pareti sono scaffali per i libri interessanti molto soddisfatte di questa visita veramente parte che là dentro faceva un caldo terribile un umido però meritava guardate che tramo ok no 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 questo è un centro commerciale Siamo arrivati alla biblioteca e invece purtroppo c'è sciopero. E quindi torneremo indietro. Siamo arrivati alla biblioteca. 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 Siamo arrivati alla biblioteca.